Piccoli disagi a fronte di grandi interventi che finalmente riusciamo a mettere in campo. L'intervento che parte già da domani è il lavoro sul cavalca ferrovia. Il tratto interessato è quello che va tra Via Fratelli Bandiera e l'oratorio della Chiesa dei Cappuccini. È un lavoro che va a step e questo primo cantiere in qualche modo comporta un cambiamento sostanziale della viabilità. In primis Via Fratelli Bandiera subirà un'inversione di marcia, quindi si andrà dal Via Montegrappa a scendere verso Via Rosolino Pilo, mentre prima era il contrario. Mentre su Via Cardinal Massaia, che è la via che ci permette di accedere alla Chiesa dei Cappuccini e a tutta l'area di sosta a disposizione della città, quindi Porta Capuccina e il parcheggio della stazione ferroviaria, subirà anche questo un'inversione di marcia. Quindi permetterà alla Chiesa di avere i fedeli che potranno accedere in maniera tranquilla a tutte le attività della parrocchia e permetterà ai pesaresi che hanno bisogno di cercare un posto auto gratuito a ridosso del centro di arrivare ai due parcheggi scambiatori. Poi per uscire si andrà in direzione Via Solferino e poi per chi vuole tornare in centro farà la rotatoria di Via Solferino e tornerà sul cavalcaferrovia. Una criticità l'avremo con i tanti ciclisti che arrivano dalla zona di Villa Fastici, di Villa San Martino, da Pantano, che scendendo verso il centro e verso il mare troveranno il sottopasso dei cappuccini interdetto e lì andremo a creare su Via Cardinal Massai una corsia a doppio senso di marcia per le biciclette. Questo comporterà la perdita di alcuni posti auto, però li recuperiamo sostanzialmente con i due parcheggi scambiatori che ci sono a ridosso della stazione. È un disagio che durerà qualche mese, poi step by step noi dovremo andare avanti con tante altre modifiche alla viabilità che creeranno all'inizio, come sempre, un po' di confusione, però il risultato che avremo sarà un risultato eccellente.